Nella vita di una bambina rifugiata ci sono due possibilità. La scuola è un futuro dignitoso, oppure sfruttamento e abusi. Puoi voltarle le spalle, oppure puoi decidere di cambiare la sua vita donandole la possibilità di andare a scuola. Aiuta UNHCR a mandare a scuola tante bambine. Bastano solo due euro per garantire un mese di scuola a una bambina rifugiata. Mettiamocelo in testa! Grazie a tutti!